Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Anteprima puntate dal 28 al 30 settembre. In difficoltà per dover montare una ruota di scorta, Umit Karaman viene aiutata da Demir ma elude le domande sulla propria identità. Fra i due sembra nascere un'intesa. Umit, ancora sconosciuta a tutti, è stata nominata primario dell'ospedale di Kukurova a scapito di Mujgan che ne rimane amareggiata e si lamenta con Veice che ne approfitta per sollecitare la nipote ad aprire uno studio. Medico a Istanbul, salvo smentirsi quando è Fekeli che sollecita Mujgan a fare la stessa cosa, ma a Kukurova. Gaffur, con la scusa della nostalgia di casa, torna alla tenuta Yaman e ottiene nuovamente il suo lavoro. Tre mesi dopo, Zuleya decide di raccogliere l'eredità di Unkar e di diventare la nuova signora di Kukurova. Intanto, Demir si imbatte in Umit, una affascinante e misteriosa ragazza. Fikret vandalizza la tomba di Adnan Yaman. Zuleya sovraintende ai matrimoni collettivi organizzati che aveva sempre organizzato Unkar Yaman nella tenuta. Sanie, mentre distribuisce vestiti ai bimbi delle baracche, pensa di far mettere all'asta gli abiti di Unkar. Gulten prova l'abito da sposa che Zuleya ha fatto per lei, provocando l'invidia di Fadik. Sevda incoraggia Demir a riconquistare Zuleya, mentre nasce qualcosa tra Fikret e Mujgan. Una giovane donna è arrivata a Kukurova ed è già sulla bocca di tutti per la sua bellezza e per l'importante nomina a primario dell'ospedale cittadino al posto di Mujgan. Il suo fascino sembra aver conquistato persino l'interesse di Demir che si affretta a invitarla come suo ospite all'evento di premiazione del migliore imprenditore di Kukurova. Alla serata sono invitati anche Ficheli e Fikret, quest'ultimo intenzionato a vendicarsi di Demir, per le colpe di Adnan Yaman padre. Fikret, infatti, sarebbe il figlio illegittimo, nato da una relazione clandestina tra Adnan e sua madre. Cacciata di casa dal marito, una volta scoperta la verità, Adnan si era rifiutato di concederle il suo aiuto, condannando lei e Fikret a una vita di povertà e umiliazione. Nel frattempo, Zuleya non solo è diventata la nuova signora della tenuta Yaman, ma Demir le ha anche ceduto tutte le quote dell'Adnan Yaman Holding appartenute a sua madre Unkar. Sermin chiede a Zuleya di accettare la candidatura alla presidenza dell'Associazione di Beneficenza un tempo presieduta da Unkar Yaman. Zuleya viene eletta.